Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sempre profit sta lurida, eh? Oltre profit a fila, cazzo, eh? Ho sempre profit. Ecco Dio, altri 110 euro. Oh, non mi fai tutto quanto. Abbiamo già constatato che non era lucido e che quello che diceva non era qualcosa che pensava davvero. In quel momento non era capace né di intendere e di volere. Però... Greve, sicuramente greve. Però... L'importante è che non pensi davvero tutto ciò. L'importante... Spendere... Stacca e fammi raid, bro. Vese e cali. Vese e cali. Ma in live vese e cali. Vediamo che live ha fatto. Che live sta facendo. Se dobbiamo fare gli raid. Streamer rovente. Ah, è uno... Ah, ma è... Ma no, ma è... È Vese. Ma no, bro. Perché ti sei messo a fare... Cos'è sto, Dio? Cos'è sto schifo, bro? E poi io a Napoli per... Vabbè. E ti fai una bella città. Destrissimo vederti cosa faccia di Dario addosso. Ti si vuole bene. Un bacino. Ma giustamente che... E che ne va succeda? Mi stai messo a fare... Ti si vuole bene. Un bacino. Ma giustamente che... E che ne va succeda? Porco Dio! E chi è che ha fatto tutti i video? Sono le otte e trenta. Grazie, Elso! Un saluto a... Agostino Carmelo e Turi Crema Che sono tutti fuera come me. Grandi, raga. Non ziatelo troppo, eh. Mi raccomando. Vabbè, scappiamo, va. 200 euro. One million? Vai. Beh, tu ne hai mai avuto cani, gatti, no? Mai avuto, mai avuto, mai avuto. Ma la mia famiglia non... Cioè non potremmo tenerci in casa un animale così ingombrante. Vabbè, un cagnino però potresti prendertelo. Ho un gattino, ma... Gatto. Io c'ho pure tre gatti. Minchia, insieme ai cani? Sì, sì. No, ma sono cresciuti insieme, quindi... Bella merda. No, non c'è il problema che con noi stiamo andando. Non dormiamo, tipo... Ti riguarda come sta andando. Guarda qua, porco Dio. 200 per sul blu, 20 per sul verde e 40 sul gatto. Includa anche con noi. Cioè bisogna sempre... Con noi dormiamo assieme. Bisogna sempre che tipo ci sono coperte tiratissime, perché... Se io e te che le prendiamo, le tiriamo verso di noi. Eh, lo sto a lezzo entrando. Oggi è venerdì 17. Merda. E' meglio il 10, meglio un 10 che sto a 5. 5 per 2. Vabbè, le monetine. Ci dai un po' di monetine, neanche perché il 5 corre. Per il 5 corre troppo. La collega è pesa bene. Ma ce la fa questa a cantare queste canzoni? Bah! Che cazzo si ride. Carta? Ma io la licenzierei subito questa. Purtroppo troppo. Sei buona colpita. Tu vuole regalare un giocatto alla Valentina? Eita, questo raga, questo è di entrare nel mio content all'inizio live sempre bellissimo. Eba ragione, basta con queste battute. Mio zio che giocava a 5.000 euro al mese alla roulette ha smesso e si è comprato la sua Audi R8 dei sogni. Con quella macchina si è andato a schiantare ai 200 all'ora su un palo. Morale della favola. Non smettete di giocare. Il 99 per... Scusami Panzerotto, non te l'ho schippata io. Te l'ho schippata... Va bene, grazie Panzerotto per il tempo. Guardiamoci questo altro... Come ti definiresti, Michelle? Eh, bocca. Perché io pensavo che eravate insieme? Ma no, ma lei è la mia troietta. No, Venti, no! Scusa, pensavo che eravate... Oh, bello! Quanti successi forcati? Quanto al 10 quello? 29? 39? 69? E come si è definita, Michelle? This is your president speaking welcome on board. Non si può definire, no? Perché... C'è qualcuno che potrebbe offendersi. Da, adesso la stiamo andando troppo in cacciaio, vaga. Tu sono una merda. Non capisco. Non capisco? Vabbè, diamogli il beneficio... Non capisce, vabbè. Non capisco il beneficio del gruppo. Non capisco il beneficio del gruppo. Non capisco perché sono arrivato al tavolo e ho cantato di mani a carnevale. Para, 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 para... Questo non è stato professionale. Top professional dealer, vabbè. Spero che possano spendere questi soldi in un modo proficuo. Per il resto... Dai, facciamo le persone serio, va? Antibiotici. Si dice, attenzia qui. Anch'io. Non è che doni il carnevale. Non vedo l'ora. Ma questo lo sapeva che eravamo in live, eh? Questo lo sapeva che eravamo in live. Non è che... Che non lo sapeva. Purtroppo black. E godo per qualcuno. Per Ale, Ale, per gli schifo... Ma come godo per qualcuno? Ma che sei? Ma che hai? 12 anni, Nina. Ma svegliati. Ma non mi scuso neanche. Ma che devo stare qua a scusarmi con una che si comporta così? Ma che è? Stiamo, diciamo, stiamo. Abbiamo un 10 qua. Ho una side. Del flash. Colore. 15. Troppo sbagli. Vediamo. È solo un 19 per il banco che... Va bene, Reddy. Sì, non va. Proviamo questa. E io non le so le cose. Ma meglio così, meglio così. Meglio che sia solamente quelle più... Che giochiamo di più. Stanno i nomi? Stanno i nomi? Sì. Eh sì, però non mi ricordo i provider. Provider... Come fai a conoscere la parola provider, Michelle? Ho appena detto. Ho appena detto. Ma che passa? Non fermarti! Ti prego, una funzione fino al finale. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Dai cazzo! Dai cazzo! Dai cazzo! Eh, a mille non ci si arriva a mille euro! A meno che non metta la funzione adesso! Dobbiamoci in quello normale Allora, non c'è la calda Quattro 10x In fondo al mare In fondo al mare Almeno rendere il contenuto più Più bello e più intrattenente cazzo C'è il me... Nooo non ha puntato! Nooo! Ma nooo! Nooo! Sta così? Andato quei 36 euro di... Che schifo la propaganda Adesso capisco perché non ci venivo più su sta merda Via! Subito via, guarda non voglio neanche riprovarla Andiamo a vedere... Andiamo a vedere slot nuove Slot Buy bonus Queste qua nuove Allora, delicious candy E' uscita poi Way of the time Un 7 Un 10 È un asso Uuuu Uuuu Uuuuuuuu Uuuuuu Ahhhh! Pepe! Ma tu sei fenomenale! Ma to' più bj e tris Do' più bj e tris D' più bj e tris Ma cosa ha fatto? Ma cosa hai fatto Pepe? Ma con che manina hai fatto?